E ora passiamo all'ultimo oratore che è il professor Sergi, al quale devo un particolare ringraziamento perché è stata una mia responsabilità o colpa il fatto che a lui il comitato che ha scelto diciamo l'oratore per questa trilogia, bellissima trilogia, mi ha chiesto ma perché uno storico? E io voglio spiegare mezza parola perché il tempo stringe perché. Perché io studio, non sono uno storico ovviamente, e uno dei problemi che mi ha sempre affascinato ma da tantissimo tempo è come il clima, che influenza il clima sulla selezione naturale dell'uomo che è un tema piuttosto affascinante e è difficile naturalmente perché ci sono molti aspetti qualche risultato l'ho pubblicato su questo che ha un certo interesse ma non è il tema di questa serata quello che mi sono imbattuto diciamo in una storia che non conoscevo e che era la storia del clima dall'anno 1000 di La Rua La Diori che per me è stato un romanzo stupendo perché non solo scritto benissimo ma documentato con una serie di dati sul clima che è stata per me la ragione diciamo per approfondire questo studio e dal momento che mi è sembrato che almeno da quello che ho letto, forse ho letto interpretato male che i primi dati sul clima sotto un profilo storico sono dell'epoca mediovale sostanzialmente perché abbiamo forse un po' prima ma mi sembra che in quel momento si è attivata una serie di dati storici allora mi sono chiesto ma perché non affidare a uno studioso di storia mediovale questo tema e perciò gli sono molto grato per aver accettato questa sfida e lo invito qua a raccontarci che è non solo a Torino uno dei massimi studiosi di storia medioevale. Grazie Un compito relativamente più facile per uno storico sarebbe quello di fare una storia delle regioni del mondo collegata con le diversità climatiche e quindi clima più o meno stabile legato alla latitudine fondamentalmente ma qui si parla di cambiamento climatico allora se si parla di cambiamento climatico e non di differenze climatiche stabili del mondo il discorso si fa delicato e infatti come credo si ascolterà un po' troppo ricco di complessità e con alcune cose da risistemare rispetto a delle convinzioni diffuse si è parlato soprattutto nella prima delle relazioni di oggi da parte di Spanna di convinzioni diffuse che sono di matrice giornalistica oppure legate fondamentalmente a ricerche piuttosto vecchie ecco in questo caso direi che ci sono alcuni temi che intendo approfondire ancora una parola introduttiva su quelle diversità climatiche stabili nella storia la maggioranza degli storici dell'economia in particolare un mio collega medievista Alfio Cortonesi e un bravissimo storico dell'economia che è Luciano Palermo hanno dimostrato di recente che le diversità di sviluppo che si collocano nella primissima età moderna fra Europa e Oriente i grandi imperi d'Oriente che in teoria avrebbero avuto delle condizioni paragonabili dal punto di vista delle potenzialità di sviluppo sono dovute a fattori umani che con il clima non c'entrano nulla quindi non è che il fatto che la rivoluzione industriale di cui parleremo fra un attimo si sia sviluppata in Europa ecco è il tipico esempio di elemento fondamentale nella ricostruzione della storia dell'umanità che con il clima non c'entra occupiamoci allora di cambiamenti e questo è lo scopo dell'incontro di oggi questo vuol dire che uno storico deve occuparsi di un arco cronologico amplissimo si parte dal massimo glaciale punto di partenza di alcune considerazioni che si colloca 11.500 anni fa alla notizia di questi giorni mi pare dell'altro ieri cioè la notizia secondo cui la barriera corallina a nord-est dell'Australia per il 67% in meno di un anno è morta cioè il 67% di quei coralli sono come si sa un organismo vivente sono totalmente sbiancati perché sono morti si prevedono anche dei tempi di ripresa però questo dato è impressionante e non esiste da quello che ho letto nessun dubbio che questo è legato a un fortissimo riscaldamento dell'oceano ecco fra questi due estremi questo oggi preoccupante e quel massimo glaciale su cui solo gli archeologi possono dirci qualche cosa riflettiamo appunto su qualche elemento di periodizzazione e aggiungiamo qualche considerazione di contenuto non solo di periodizzazione scelto questi elementi scelto fra i più problematici la distinzione che conta di più e qui non ci arriva solo uno storico di professione ci si arriva col buon senso la distinzione che conta di più entro questo amplissimo arco cronologico è sicuramente la rivoluzione industriale una rivoluzione che si colloca nel pieno XVIII secolo all'interno dei diecimila anni che, l'abbiamo sentito nella prima relazione di oggi si definiscono Olocene cioè l'era geologica in cui viviamo noi attualmente è l'Olocene attenzione però perché dalla fine dell'Ottocento senza sostituire la definizione Olocene per l'ultimo periodo dalla fine dell'Ottocento si è cominciato ad aggiungere un termine diverso per definire gli anni che stiamo vivendo e cioè l'era geologica più vicina a noi che è visto da uno storico un termine diverso che visto da uno storico ha molto senso cioè l'antropocene cioè il periodo molto più profondamente caratterizzato dall'intervento umano una cosa che mi piace dire in questa sede è che il primo che si è mosso in questa direzione è stato proprio un accademico delle scienze di Torino e più esattamente Antonio Stoppani che non coniò la definizione antropocene che è dovuta ad altri come dopo se rimane tempo dirò ma diceva siamo entrati nell'era antropozoica questa è la definizione di Stoppani nata qui la definizione antropocene comincia poi a diffondersi dalla fine dell'Ottocento e voglio parlarne dopo perché secondo me c'è una causa climatica precisa della diffusione di questo nuovo termine prima della rivoluzione industriale e dell'antropocene i mutamenti sono dovuti in modo esclusivo a forzanti naturali una definizione che il pubblico di oggi è già in grado di controllare perché ne abbiamo sentito parlare la definizione di forzanti è una definizione tecnica è una di quelle definizioni che gli storici usano poco perché gli storici ricorrono il meno possibile a terminologia tecnica però in questo caso è più che mai utile quali sono i forzanti naturali? sono la geometria orbitale l'attività solare l'attività dei vulcani questi sono forzanti naturali che dobbiamo sottoporre attenzione rivolgendoci al passato e soprattutto al passato precedente alla rivoluzione industriale un massimo astronomico di insolazione si è avuto circa 6.000 anni fa e su questo più o meno tutti gli studiosi sono d'accordo è quello che viene definito l'optimum termico l'optimum termico su cui non c'è discussione ne troveremo un altro fra poco legato proprio al mio mestiere su cui invece la discussione c'è ed è molto accesa è appunto quella il piccolo optimum medievale chi lo definiva piccolo optimum era proprio quell'Emanuele Leruala Durie citato dal nostro presidente prima che ci propone anche la periodizzazione tutto sommato ancora più accettabile il libro citato da Piazza è un libro del 1967 mi piace far notare perché è un piccolo dato di storia della cultura più ancora che di storia della storiografia il fatto che quel titolo storia del clima era il titolo dell'edizione originale la traduzione italiana che è tempo di festa tempo di carestia non è stata una cattiva azione dell'editore Inaudi no perché l'editore Inaudi ha condotto la traduzione sull'edizione inglese che era ed era una giusta scelta perché era un'edizione più evoluta rivista dallo stesso autore e arricchita di molti elementi di informazione è la traduzione inglese che ha adottato questo titolo che non fa giustizia alle pagine che seguono perché in quegli anni si voleva talmente rendersi accattivanti da parte degli editori rendersi accattivanti rispetto ai lettori da puntare non c'era questa grande sensibilità per la storia del clima come non ci sarebbe stata in quegli stessi anni una vera giusta sensibilità per la storia della medicina si voleva ad ogni costo renderlo affascinante per il lettore attraverso dei riferimenti alla vita sociale soprattutto alla vita quotidiana che era quella che in quegli anni si riteneva fosse più attraente per il pubblico dei compratori veniamo a questa cronologia di Leroy Laduri abbiamo già detto ho già anticipato che lui individuava un piccolo optimum climatico nei secoli intorno al 1000 e qui vorrei chiarire subito che dato che parlerò abbastanza del cosiddetto medioevo caldo che ha cominciato ad essere smontato ormai da parecchi anni è considerato in gran parte un mito Leroy Laduri aveva la prudenza di concentrarlo proprio agli anni intorno al 1000 cioè ai secoli più vicini al 1000 lui in sostanza dice nel suo bellissimo libro che dal 1215 16 in poi cominciamo a avere dei dati in assoluta contraddizione rispetto al medioevo caldo poi una piccola età glaciale nel 200 e nel 300 una risalita di temperatura dal 400 in poi un'altra piccola età glaciale tra 1580 e 1850 quindi ci avviciniamo abbastanza ai nostri anni fino all'indubitabile riscaldamento contemporaneo uno degli studiosi più più polemici sulla sull'idea di medioevo caldo è stato senza dubbio Luca Mercalli che è noto a largo pubblico per ragioni che in fondo con i suoi studi hanno poco a che fare ma che con cui ho avuto il piacere di collaborare in una lunga ricerca e che in realtà è molto più moderato di quanto non si possa credere secondo Luca Mercalli sono relativamente miti in Europa l'età romana e il periodo medievale il climatologo cioè non nega il carattere tiepido di quei secoli medievali ma lo ridimensiona e soprattutto nega che si possa e questo è un punto di rimente per il contributo al dibattito quel piccolo contributo al dibattito che gli storici possono dare nega che si possa usare in funzione tranquillizzante sul presente gli studiosi che si sono impegnati a smontare quella che loro definiscono leggenda del medioevo caldo sono degli studiosi non italiani Jugs Diaz 1975 ma i medievisti sanno bene che prima di prima di corrodere un luogo comune passano decenni e decenni fino a ricerche decisive del 1999 dello stesso Jugs di Mann e di Bradley qual è la conclusione di queste corrosioni di convinzioni diffuse perché soprattutto un secolo è stato un secolo tiepido l'undicesimo ma certo non mite lo stesso undicesimo certamente non mite come la parte finale del secolo terminato da poco cioè come la parte finale del secolo ventesimo perché tiepido tiepido perché ci fu una fase di variazione dell'irradiazione solare e una conseguente maggiore temperatura superficiale degli oceani alcuni indicatori fanno sorridere in passato si è molto parlato della coltivazione della vita in Inghilterra la coltivazione della vita in Inghilterra c'è sempre stata uso degli andamenti che dipendono spesso da fattori che di climatico non hanno nulla oppure e questo fa sorridere ancora di più la transitabilità dei valichi alpini che c'è sempre stata cioè indubbiamente nel Medioevo abbiamo cronache di grande lamento per i percorsi tra la neve e i ghiacci grandi lamento grandi lamenti però di personaggi che passavano ma perché stupirsi che ci fosse questa transitabilità probabilmente lo stupore nasceva soprattutto a fine Ottocento nasceva da un'idea di Medioevo che è ormai superata da moltissimi anni si transitava prima si è continuato a transitare dopo pur in una fase riconosciuta da tutti come fase di nuova piccola glaciazione cioè tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna e quindi non è un dato significativo proviamo invece a guardare dei dati significativi veri che sono spesso contrastanti fra loro noi abbiamo notizia di una invasione di cavallette per caldo e siccità nell'873 un'invasione di cavallette che ha interessato un arco di regionale europeo tra la Germania e la Spagna e un'altra nel 1195 tra Ungheria e Austria ecco questi sono dati significativi il problema è che di ognuna di queste notizie che noi abbiamo dobbiamo valutare l'aspetto di sintomo cioè esito di una modifica climatica che stava avvenendo e poi che cosa questi fenomeni documentati producono ci sono delle differenze regionali senza dubbio qualche elemento sul Medioevo caldo lo possediamo un po' di più per le regioni dell'Atlantico settentrionale però ci sono anche dei fattori di grande omogeneità che ci consentono di fare delle riflessioni più fondate fra poco produrrò un certo numero di esempi attinti a quella ricerca in cui storici e climatologi hanno collaborato fra loro che è condotta fondamentalmente sull'arco alpino ebbene c'è totale convergenza di opinione fra storici e climatologi sul fatto che gli esempi alpini non sono degli esempi locali perché l'avanzamento e l'arretramento dei ghiacciai alpini hanno andamenti identici a quelli che sono stati studiati per l'Islanda o che sono stati studiati per l'Alaska su che base si valuta l'azione dei forzanti naturali di cui ho parlato prima cioè su che base gli storici e i cultori di discipline ausiliarie spesso non amano essere definiti così diciamo tutte le scienze che convergono in operazioni di carattere interdisciplinare una è proprio la valutazione dei coralli che ho citato prima poi la dendrocronologia cioè il valutare la crescita più o meno regolare diversa secondo dei diversi gruppi di anni dei cerchi all'interno degli alberi cioè l'ampiezza e la densità anche la densità degli anelli di accrescimento degli alberi infine la tipologia dei pollini fossili e in questo i nostri colleghi delle annal e le ruola di Urier proprio uno di questi hanno fatto dei progressi enormi nella seconda metà del novecento dalla parte centrale del medioevo in poi ed ecco che quindi do ragione a quello che ci diceva Piazza all'inizio abbiamo finalmente anche delle altre fonti proprio quelle con cui hanno dimestichezza quotidiana gli storici abbiamo cronache che descrivono eventi climatici abbiamo relazioni su danni alluvionali e su carestie abbiamo documenti molto preziosi molto utili che chiedono sgravi fiscali in seguito a calamità naturali e abbiamo relazioni di viaggio dico subito che in valutazioni complessive di dati che come si vedrà fra poco sono dati non privi di contraddizioni durante l'intero Olocene cioè durante gli ultimi diecimila anni abbiamo delle oscillazioni queste oscillazioni sono sempre all'interno di due gradi io mi sono documentato ho letto molto anche al di fuori del mio specifico mestiere invece quanto riguarda i dati in proiezione i dati in proiezione mi hanno fatto trovare di fronte a climatologi ottimisti e a climatologi pessimisti cioè si va dagli iper pessimisti che prevedono che si possano addirittura sfiorare i sei gradi di aumento entro questo secolo agli ottimisti che dicono due e qualcosa però certamente come esterno la cosa che mi ha colpito è che di sicuro questa oscillazione di valutazioni previsionali è un'oscillazione che va sempre molto oltre i due gradi cioè abbastanza diciamo a voler iscriversi al partito degli ottimisti oltre i due gradi e questo mi sembra un dato molto significativo prima dicevo che sono significativi sono importanti gli anni in cui è stata costruita la definizione di antropocene beh non è un caso che quelli che hanno deciso di ricorrere a questa definizione che sono un biologo Störmer e un chimico Krutzen sono stati attivi entrambi dopo il 1980 cioè quando hanno preso atto che l'aumento di temperatura era un aumento significativo fortemente dipendente dell'attività umana e dotato di una certa progressività è ovvio che lo storico guardando alle fonti che ho citato prima deve usare delle misure di prudenza perché invece di fare un discorso metodologico complesso faccio un esempio soltanto molti ricorderanno però è quasi un caso che lo si ricordi che nel 2010 l'eruzione di un vulcano islandese Leia Fjallajokull causò per alcuni giorni la sospensione del traffico aereo non se lo ricorda quasi più nessuno se fosse avvenuta una cosa dello stesso genere un cronista medievale ci avrebbe dedicato pagine e pagine non solo ma noi storici ci saremmo cascati pensando che la quotidianità di quel periodo sarebbe stata condizionata da quella nube per anni e invece già allora avrebbe avuto una ricaduta sul vivere sociale simile a quella che ha avuto il vulcano islandese di cui ho parlato un momento fa sul piano sul piano della concretezza esiste molto per noi il problema dell'incidenza sul clima di attività vulcanica e terremoti qui c'è un gruppo di ricerca che ha sede a Bologna guidato da Emanuela Guidoboni hanno raccolto più di mille pagine di un repertorio di terremoti attività vulcanica e tsunami una cosa curiosa che i tecnici mi dovranno spiegare è perché sia sparita la parola maremoto cioè ormai si dice tsunami anche tecnicamente loro dicono i geologi dicono tsunami e gli storici anche anche se poi approfondendo un po' la cosa ho scoperto che tecnicamente lo tsunami è l'onda causata dal maremoto e occuparsi di quest'onda ha un po' messo fra parentesi il terremoto sotto l'acqua in sostanza che è il maremoto è chiaro che questi fenomeni studiati dalla Guidoboni e dai suoi collaboratori dipendono da variazioni climatiche da variazioni diciamo questo da variazioni generali del clima poi però la loro incidenza è un'incidenza molto più regionale per citarne alcuni vicini a noi abbiamo due maremoti due tsunami sulla costa napoletana nel 1112 e nel 1456 e ne abbiamo sulla costa siciliana orientale nel 1169 e nel 1329 ci sono anche altre cause non non umane nell'aumento del clima della prima metà del novecento diciamo dalla fine dell'ottocento alla prima metà del novecento indubbiamente sì c'è un lungo periodo di inattività dei vulcani tra il 1890 e il 1950 c'è un aumento riconosciuto dell'attività superficiale del sole nel periodo 1925 1960 e a tutto ciò è da collegare un'evidente forte memoria delle masse oceaniche non c'è dubbio però che quello più condizionante quello più decisivo sia stato e sia tuttora l'effetto serra se ci fermiamo un po' di più sui rapporti tra variazioni climatiche e società sulla possibilità che gli storici possano dare un contributo allo studio degli andamenti climatici è utile fermarsi proprio sul medioevo e sulla discussione a cui ho accennato prima i rapporti causa effetto fra clima e società umana se ci fermiamo su una scala microstorica troviamo moltissime cause climatiche e moltissimi effetti soprattutto sul piano insediativo si potrebbero fare esempi lunghissimi cioè se in modo puntiforme noi osserviamo le zone più insediate o meno insediate d'Europa ma vale per tutto il mondo noi constatiamo che spesso sono climatiche le cause dei cambi di configurazione insediativa se invece pensiamo su grande scala i rapporti causa-effetto sono totalmente indimostrabili basta considerare che per il mille avanti cristo è stato detto che i germani avrebbero cominciato a spostarsi dalle loro terre a causa del grande freddo ma si è anche detto per il mille dopo cristo che vichinghi vareghi normanni si sono spostati dalle loro terre per l'amitezza del clima perché perché l'amitezza del clima avrebbe creato espansione demografica e l'espansione demografica avrebbe creato spinta a trovare nuovi insediamenti il periodo molto freddo tra 1590 e 1850 coesiste con due esiti della storia umana completamente diversi coesiste con la depressione economica del seicento che nessuno nega e coesiste con fasi di notevole espansione economica in pieno settecento il clima era lo stesso e questo essere lo stesso voleva dire era un clima freddo nell'uno e nell'altro caso e qui vengono fuori i difetti dello specialismo anche di noi storici chi si affaccia al diciassettesimo secolo si affaccia al seicento decide di lavorare in modo interdisciplinare constata il forte abbassamento della temperatura e dice ecco una causa della crisi economica se lo sguardo fosse un po' più allargato si constaterebbe che un secolo dopo il clima è lo stesso e l'espansione economica è in dubbia la ricerca congiunta di climatologi e storici che ho citato prima finanziata dalla compagnia di San Paolo è conclusa nel 2010 con un ricchissimo dossier guidata da Luca Mercalli per la parte tecnico-climatica da me per la parte storica e da Patrizia Cancian per la parte paleografica e di lettura dei documenti ha dato dei risultati certo di ridimensionamento del grande luogo comune del Medioevo Caldo qualche moderazione suggerita e molti dati contraddittori e qui molto rapidamente ne leggo alcuni perché li ritengo estremamente istruttivi nell'852 abbiamo una notizia sicura di una massiccia moria di viti nella pianura padana nelle zone prealpine l'inverno del 1076 1077 quello famoso di Canossa è un inverno freddissimo si sa di una nevicata estiva congelata di vari giorni in Emilia nel 1199 l'intero l'intero inverno 1216 ci mostra la superficie del Po ghiacciata dove si poteva tranquillamente transitare non solo a piedi ma anche con con carri e fra 1350 e 1400 si avvia un raffreddamento che nel 1800 è calcolabile in 0,4 gradi invernali dunque tutti questi esempi ma sono centinaia gli esempi di freddo freddissimo nel pieno del medioevo non ci devono in realtà indurre a smontare completamente la convinzione precedente piuttosto ci devono indurre a farci una domanda sono definibili come tendenze visto che alcuni dei dati sul freddo sono più verso la parte finale del medioevo in realtà no non si possono definire tendenze perché alle soglie di quel periodo abbiamo degli inverni mitissimi 1265 e 66 un inverno mitissimo 1278 1279 poi abbiamo un rigidissimo inverno nel 1305 e 1306 con gelo pieno ancora ad aprile ma abbiamo anche l'estate strepitosamente calda nel 1333 un inverno molto freddo nel 1364 e un'estate molto calda dieci anni dopo nel 1374 c'è anche un'assenza di ciclicità per noi molto istruttiva un'assenza di ciclicità nell'alternarsi di alluvioni e di siccità noi abbiamo alluvioni con 10.000 vittime nel torinese nel 1331 e abbiamo una grave siccità nel 1333 un'alluvione nel 1375 e una siccità estrema nel 1380 cinque anni dopo allora queste variazioni sull'estensione di pochi decenni variazioni a mio avviso molto significative ovviamente non piacciono a qualche studioso queste constatazioni che devono invitarci alla prudenza su tutti i fronti non piacciono ai cultori della cosiddetta big history e i cultori della big history trovano allocazione fondamentalmente nelle università americane dove cercano di fondere storia dell'uomo e scienza della natura in particolare c'è un signore che si chiama Peter Turkin che insegna ecologia e biologia evoluzionistica all'università del Connecticut questo signore ha fondato una una rivista mi pare nel 2010 che si intitola Clio Dynamics e vuol fare una proposta metodologica a tutti gli storici non solo a quelli che operano nel rapporto fra storia umana e scienze naturali la sua proposta è quella di dire cari storici se la vostra scienza non serve a formulare previsioni cambiate mestiere la storia non serve la cultura americana statunitense è fortemente condizionata soprattutto negli ultimi anni per ragioni di finanziamenti e così simili a questo problema dell'utilità a questo problema dell'utilità pensate che Peter Turkin che tra l'altro adesso io ve lo sto presentando soltanto per questo suo desiderio di sfuggire a tutte queste piccole constatazioni che io ho fatto un momento fa per crearci dei dubbi cioè noi abbiamo delle informazioni molto precise sul passato in cui in modo non dissimile da ciò che abbiamo ascoltato oggi prima le variazioni erano radicali nell'arco di dieci anni allora Turkin dice però bisogna valutare le grandissime tendenze perché solo se si valutano le grandissime tendenze una riflessione sul passato è utile e ha inventato addirittura un neologismo che sarebbe retrodiction cioè gli storici devono operare retrodictions che sarebbero diciamo predizioni retrospettive è ovvio che gli storici inorridiscono di fronte alle predizioni retrospettive anche se forse lo scopo è buono cioè si vuole salvare la storia dimostrando che potrebbe avere una certa utilità ma probabilmente nel paese il nostro che ha posseduto Giambattista Vico non ci sembra una grande novità e soprattutto sembra che abbiamo già elaborato gli antidoti rispetto a questa a questo tipo di operazioni il riscaldamento globale attuale è in prospettiva è sicuramente un tema drammatico ma non è argomento per gli storici che come aveva affermato il grande forse il più grande medievista francese della seconda metà del del novecento cioè Duby devono sempre rifiutare di essere futurologi grazie grazie mille di questa bellissima e argomentata in vita la cautela io ho l'impressione che non ci sia tempo per discutere tutte queste stimoli che abbiamo avuto ma sicuramente ho il tempo di ringraziare intanto i presidenti delle altre accademie quelli che ci hanno ascoltato mi auguro che ci possano essere degli appunti eventualmente da pubblicare da rifletterci ma certamente il tema è stato denso di stimoli e mi auguro che venga in qualche occasione ripreso con tutte le cautele di cui abbiamo avuto bellissime testimonianze vi ringrazio tutti vi auguro una ottima serata e ci vedremo in una prossima occasione ricca sicuramente anche questa di stimoli grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti